Ciao a tutti ragazzi sono Luke e benvenuti in questo nuovo episodio della Luke Pack A telecamere spente ragazzi ho ingrandito la casa, non ve l'ho registrato perchè sarebbe venuto troppo lungo, anche velocizzato Allora qui intanto ho spaccato un pezzo giusto per far vedere anche il forno e ho fatto questa parte Semplice semplice per cui era inutile farvela vedere perchè qua ragazzi faremo il nostro smistamento chest gigante Logicamente non in questo video perchè ci mancherà un bel po' di materiale per cui ho solo preparato l'ambaradam Una cosa da fare oggi è, vediamo un po' quanto roba abbiamo, 21 pezzi di ferro Però abbiamo questo qui, da poter vendere e prendere altro ferro Dopo vi dirò il perchè Perfetto Ora facciamo un po' Facciamo, dovrei avere un po' di ferro Eh si di ferro vabbè, chest chest non ne ho Bene facciamo qualche chest Ok, ora Ora Facciamo le chest di ferro Sono 5 Vediamo un po' quante mi vengono Siamo a 5 Facciamo altre chest Facciamo altre chest E doi E 5, 6, si vabbè Tanto non bastano 6 chest Ok 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 siamo a 10 10 chest Più che ottimamente ottimo Ah ragazzi una cosa prima di continuare è che sto facendo dei tutorial sulla zona industriale Per cui molti macchinari, molte cose Magari io farò il mio let's play tranquillamente Senza spiegarvi il funzionamento e cose varie Se volete saperlo seguite quella serie Dove vi spiegherò tutto piano piano Per cui cominciamo col fare così Ok Ora dividiamo anche queste qua Mi sto solamente preparando ragazzi Perché nei prossimi episodi faremo lo smistamento chest gigante Con l'autocrafting eccetera Per cui questo episodio sarà lungo Sarà corto al contrario Allora vediamo un po' Vediamo un po' questa roba Dove poterla mettere Per cui Lasciamo ciò che non ci serve Questa è già piena Porca trota Via Il vetro serve La legna serve Allora mettiamo via le scale Questo Il ferro Il secchio Vabbè Avete capisciuto più o meno C'è già la cosa piena Dovrei fare Quasi quasi mi faccio un alchemic chest Tanto diamanti ne abbiamo Allora un diamante Le polveri le abbiamo Uno, due, tre Uno, uno E uno Serve della lana Lana, lana Uno, due, tre, quattro Anzi 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 Mi andrei a prendere La lana Quella bella Via Facciamo la nana Intanto c'è la chest 4316 E il pirla E il pirla che è sempre lì fermo Più avanti lo utilizzeremo Eh chi me chi Buongiorno Allora dicevo Noi abbiamo una lana colorata La lana coloretta La lana coloretta Ragazzi ma sto cane È veramente deficiente Guardatelo Cioè Siamo al ventiduesimo episodio Questo cane È il ventidue episodio Che è lì Vediamo un po' qui Come le procedo Che è successo Ah è finito tutto L'omboradam Però ha fatto un bel po' di roba Uè Pirla Cos'è mi ha dato? Il cervello Ok Un bel po' di roba Rimettiamo a posto Dicevo Come mai i semi Ah i semi si sono consumati Ragazzi Si sono consumati da soli Perché essendo finito L'omboradam L'omboradam Che più avanti Faremo Per cui qua si può anche spegnere Volendo Non ho pietra Vabbè Fa niente Fa niente un bel niente Ci penso mi Ok Abbiamo una pietra Ah Ma ecco perché non vedo niente Perché me la mette direttamente In queste ceste Porca trota Le devo lasciare a casa Ste ceste Non mi piacciono Sinceramente Guarda qui Guarda qui Leva Ah questo non si può spegnere Vabbè tanto ormai è fermo Va bene Poi faremo Il coso per avere il buon mille Infinito Allora A me serviva la lana Cinque pezzi Vediamo un po' di colore farlo C'è il giallo Giallo Facciamolo giallo Ui quanta lana Abbiamo giallo Bianco Rosso Blu Ci manca un altro colore Abbiamo cinque Eh si Abbiamo due bianche Dobbiamo colorarle Quasi quasi la colorerei Di verde chiaro Vabbè poi vediamo Ui Che ci fai qui ui Allora Abbiamo i panini Si Ora ne abbiamo tanti Facciamo un bel po' di panini Nice Ottimo direi Allora svuotiamo Sa cavolo di cosa Tankete Dovrebbe essere vuota Si E le lascerei a casa Perché mi danno veramente Quest'anno bene Quando andiamo nelle caverne Allora Dicevo Si Si Dicevo si Mi serve Una stone Una stone E E Due pezzi di ferro Due pezzi di ferro Che noi dovremmo avere qua Uno e due Tankete Una chest Una chest Che l'abbiamo messa lì Ottimo Dovremmo avere tutto Allora due pezzi di stone Una chest Un diamante Due pezzi di ferro Poi facciamo il blu No scusatemi Il blu in fondo L'azzurro in mezzo E il verde E il verde all'inizio Tankete Alchemic chest Poi Tre blu L'alchemic chest Al centro E cinque pezzi di lana Colorata Tankete Alchemic bag Et voilà Ora Svuotiamo tutta questa Mbaradam E le piazzichiamo qua Allora Via il piccone Via questo 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 Cervello Mettiamo in un'altra parte Via Via Ah si intanto Vedete Ho l'od scanner Perché ho smontato Il coso L'ho messo via Perché tanto Per il momento Non ci serve Poi Ah già Pirletta Pirletta E che te lo chi Il miner Dicevo Ok Via le api Via questo Via le scale Via ferro Via tutto Via le frecce Perfettico Lasciamo anche Lo zainetto dei poveri E abbiamo questo qua Gigantolo Gigantolo Allora Qui abbiamo Altro cervello Via anche l'accendino Oh Ora si che abbiamo tutto Il bel Systemet Via E qua che mi manca Bah Mettiamo il piccone Perfetto Bene ragazzi Ci siamo preparati Nel prossimo episodio Andremo avanti Io non so perché Qui l'aggo è fuori no Non lo riesco a capire Fuori no Non mi dite che si sta Baggando il mondo Ragazzi perché mi incavolo Come una cavalletta Speriamo di no Perché mi incavolo Veramente Bene So che è un episodio Del cavolo ragazzi Ma era giusto Per avvisarvi che Partiremo nei prossimi Episodi Da Luke e tutto Seguite anche La zona industriale E Anche la nuova serie Quella di Il gioco horror Lì quella cosa lì Perché ho visto che vi piace Per cui la continuerò Cercherò di alternare Comunque sia Minecraft Non lo abbandonerò Mai Da Luke e tutto Ciao a tutti Ciao a tutti